Ciao, un video velocissimo per presentarti una soluzione che ho trovato ai problemi di rumore di fondo in home studio. Ogni tanto purtroppo capitano, è sempre un casino mediamente di ground loop o magari di schede madri poco mal costruite. La soluzione è questa qua, la ART Dual Transformer Isolator, si chiama DTI, la trovi come ART DTI, te la faccio vedere. Costa 77 euro, ok, su Toman. Tranquilli, se 77 euro è tanto, ne ho trovata una da 44 su Amazon ed è la Pile Amplificatore con eliminazione dei rumori dei ronzii. C'è della pagina che purtroppo ha un nome un po' di merda, però è questa qua. E questo scatolino ti permette di fare cosa? Ti permette di isolare praticamente quello che è, ad esempio, tra la scheda audio da una parte e le casse dall'altra, ok? O anche il contrario se hai delle robe più particolari tipo, che ne so, due computer che si collegano allo stesso mixer che vanno verso un paio di casse. A volte il PC2 per casini di magari lunghezza di cavi di massa diversi eccetera 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 può dare qualche problema. Questo ti permette appunto di avere anche un ground per assurdo sull'output se vuoi collegarlo. Ma che cosa fa quella roba qua? Semplicemente interrompe, ok, interrompe il segnale, cioè passa l'audio ma non passa la massa o comunque non passa eventuali differenze di massa perché in mezzo c'è un trasformatore, un isolatore. La risposta in frequenza è assolutamente lineare quindi non perdi qualità con queste cose. Ovviamente sentirai un po' il suono del convertitore, scusatemi, del trasformatore interno. Niente di, ragazzi stiamo parlando di, cioè, ok, se hai un impianto Wi-Fi da 100.000 euro non metterai in mezzo una roba del genere. In home studio ci siamo, capiti? E questo può veramente risolverti tutti i problemi di quello che capita di più mediamente è il ground noise tra la tua scheda audio e le tue casse, ad esempio. O magari un preamplificatore cuffia esterno. Questo te la risolvi, questo qui te la smarca, ok? Faccio un test rapidissimo, ti faccio vedere quale sia la risposta in frequenza di questo aggeggino, così verifichiamo che non ti rovina il suono, ok? Perché molta gente evita di andare verso queste soluzioni perché pensa che, ah, il suono, oh no, diventa tutta una merda. No, calma ragazzi, calma, non succede niente, ve lo faccio vedere. Tra l'altro non serve né batterie né niente, è completamente passivo, quindi non serve batterie da 9 volt di merda. Quindi ho fatto un insert dove esco dal 6 e rientrerò dal 2 ton, così verifichiamo che entra ed esce, c'è un po' di gain perché la mia scheda non sarà a, esatto, avrà un gain un pochino troppo elevato. Ci mettiamo a Unity. Eccoci qua, allora, questo qua è l'analizzatore del Bertom, questo è un passaggio full digitale senza in mezzo il trasformatore, questo qua è il trasformatore in mezzo. Giustamente questa non è una prova giusta perché stiamo confrontando una roba completamente digitale con un passaggio analogico attraverso la mia scheda audio. Come faccio? Faccio qui, sì, arrivo, posso fare la prova. Quindi ecco qua la differenza, ok, questo qui entra ed esce praticamente dalla stessa scheda audio, non so se ho lo stesso stesso gain, e questo qua invece è attraverso il trasformatore. Vedete che abbiamo un filo di roll off, ok, un pochino meno di basse, diciamo da, quanto siamo? 100, diciamo che perdiamo qualcosina, ridicolo, diciamo sotto i 50 Hz, perdiamo un pochino di basse, abbiamo un filo filo di roll off nelle altissime frequenze, ma vediamo che nelle medie non perdete nessun tipo di qualità, insomma, l'aspetto diciamo un po' audibile. Questo qua è il prezzo da pagare per avere in mezzo un trasformatore passivo, ok, quindi questo, ripeto, esco e rientro con un jack dalla mia scheda audio, vediamo che questa qua è l'audient, è molto molto lineare, non tutte le schede audio sono così lineari. Questo qua è la stessa cosa passando appunto dentro questo trasformatore, appunto vediamo semplicemente un filo di passa alto, questo con gli ingressi jack bilanciati, quindi di qui e di là. In questo caso invece ho girato i cavi, ho messo l'output nell'input e l'input nell'output, semplicemente per fare una prova per capire se a una direzione questo trasformatore è migliore dell'altra, vediamo che così forse è un filo più lineare nelle altre frequenze. Ho semplicemente girato la scatola, tanto jack jack è uguale per tutti e due, però sì diciamo che è comparabile, la direzione c'è un filo meno di roll off, però ragazzi qui stiamo comunque parlando di meno 1 dB, ok? Anche qui meno 1 dB, siamo a 60 Hz, perdiamo 1 dB e mezzo a 40 Hz, sembra più che ragionevole, ok? E quindi è questo, è questo qui, ti scherma da, ti scherma da qualsiasi tipo di ronza e schifezza, c'ha RCA, Jack, XLR, molto molto comodo, volevo condividerlo con voi. Ne ho preso anche un altro, giusto per provare, c'è anche questa soluzione, il pile, che però mi arriva martedì e quindi switcheremo tra Francesco tra qualche giorno, che spero sia più fresco anche. Un altro piccolo test che possiamo fare è quello di mandare un click, ok? Quindi una roba molto molto alta e corta e vedere nella post un po' come viene riregistrata, quindi questo è con in mezzo il nostro trasformatore, questo è senza, vediamo che non c'è differenza di transiente iniziale. Possiamo provare anche ad esempio con, cioè la cosa che voglio sentire in questo, cosa che voglio sentire in questo test è che non ci sia, che non ci sia una variazione di transiente, ok? Quindi questo kick ad esempio, vediamo che non viene, zoomiamolo un po', con e senza trasformatore, vediamo che non perde, non perde transiente, ok? Questo è quello che mi interessa vedere, il fatto che questo qui non sia, non sia troppo ammorbidito rispetto, rispetto all'altro, ok? Vediamo che è praticamente identico, quindi test passato, perché è un problema di, a volte con alcuni trasformatori i suoni si ammorbidiscono perché il trasformatore non riesce a replicare il transiente in modo così preciso, questo invece lo fa. Passiamo invece a quella cinese da 44 euro, vediamo come funziona. E adesso come con l'altra vado a testare un po' l'equalizzazione se non fa troppi casini, se non perde troppi transienti, vediamolo, vediamolo subito, vado ad appiccicarlo. Anche questa è la stessa cosa, entri con uno stereo, esci con uno stereo, o XLR o jack, molto molto comodo. Vado ad attaccarla, non servono batterie, non serve attaccarla alla corrente, sono entrambe passive. Vediamo che questa qua, appunto un pochino più cinese, ha un pochino più di pass alto rispetto a quell'altra, questo qua inizia a 100 Hz, ok? Quindi perdiamo un po' di sub, perdiamo un po' di bass, niente che non si possa magari correggere con un piccolo equalizzatore. Andiamo a vedere come si comporta sui transienti, vediamo che, sì, quindi questo è quell'originale. Vedete che invece in questo caso perdiamo il transiente del kick, vedete che è molto più morbido, ok? Rispetto all'originale, forse perché ha un gain diverso. No dai, ci siamo, è comunque abbastanza comparabile. Questa è un pochino meno bella rispetto all'art, ovviamente costa la metà. Però ecco, in questi casi appunto andiamo a togliere tutti quelli che sono i ranzini. Noi ad esempio l'abbiamo usata per isolare il palco dalla diretta della radio durante un evento, ma vi ripeto l'utilizzo tipo è appunto quello di metterla tra la scheda audio e le casse in modo da evitare tutta la sporcizza che può arrivare insomma un po' alle casse, come possono essere ground loop o del genere, oppure se avete attaccato dei synth, se avete attaccato un secondo computer o dei campionatori, potete mettere in mezzo una di queste. Una soluzione un po' del cazzo, nel senso che sarebbe meglio risolvere i problemi a monte, ossia andare ad attaccare i due computer alla stessa ciabatta in modo che con dei cavi lunghi uguali, in modo che la distanza del vostro computer alla massa di casa vostra o del vostro studio sia equidistante. È uno dei principali problemi, cioè che avete un computer che magari fa un giro un po' più lungo, la massa è più lunga, c'è una differenza di massa, vi fa questi ground loop. Però questo qua è una soluzione, volevo comunque portartela perché me ne sono comprate un po' e onestamente mi hanno risolto i problemi. Occhio sempre al fatto che ovviamente perderete un po' di suono, soprattutto nelle bassissime frequenze. Ora non so se questa qua non è una misurazione molto molto scientifica, ok? Quindi questo passa alto, poi in realtà mettiamo una canzone. Sì, si perde un po' di sub. Sentite che quando passa attraverso la DI si perde un po' di subwoofer, quindi bisogna essere un attimo consapevoli, magari mettere un piccolo boost con un EQ e sistemate tutto. Ok? Spero sia stato interessante, ci vediamo al prossimo video, dove parleremo appunto di quel banano qua che appena sentite.